balancoradio presenta la prova del balancuoco la rubrica di cucina condotta dalla splendida jessica kitman vista in tv partecipano i balancuioni cari amici della radio buongiorno e fateli boni la ricetta di oggi è scelta di gusto gli ingredienti sono un salame e salami ecco qua e un cetriolo come prima cosa disponete il salame il cetriolo sul tagliere in modo che siano dritti iniziate ad affettare il salame con forza ma che stai a dire e poi passate al cetriolo dopo averli tagliato la punta c'è male al culo fateli boni a questo punto scegliete se preferite mangiare il salame o il cetriolo io personalmente li amo tutti e due e se sapeva e così si conclude anche la puntata di oggi della prova del balancuoco arrivederci alla prossima volta con la ricetta banana piricchina ciao 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 ciao